Da almeno dieci giorni a Nuoro è diventato pericoloso imboccare via Santa Barbara all'altezza dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco. Quasi al centro della carreggiata, infatti, nell'asfalto, c'è un buco di un metro quadrato, profondo una ventina di centimetri, delimitato da della rete arancione, un ostacolo che si presenta all'improvviso agli automobilisti che arrivino dalla viale del lavoro costeggiando l'ex sede dei pompieri. Nella carreggiata, anche a causa delle auto parcheggiate, rimane poco spazio per le auto che intendano percorrere quel tratto di strada. Situazione che diventa molto più pericolosa di notte al momento che l'ostacolo non solo non è assolutamente segnalato con cartelli catalari frangenti, ma è dotato di un dispositivo luminoso spento. Inoltre è posizionato in un tratto della via completamente al buio. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte dei automobilisti che nel fine settimana hanno seriamente rischiato di schiantarsi sull'ostacolo. Giriamo la segnalazione al comune di Nuoro affinché intervenga tempestivamente e mette in sicurezza la via attraverso il ripristo nel manto stradale, eliminazione all'ostacolo oppure almeno in via provvisoria come misura urgente posizionando un'adeguata segnale etica.